Come al solito le cose si capiscono molto bene se uno fa qualche applicazione. Allora immaginate che vi sia un'impresa in un mercato di concorrenza perfetta che ha la seguente funzione di costo totale. Costo totale uguale a 1000 più il cubo della quantità diviso 3 meno 2Q al quadrato più 6Q. Questo è il costo totale. Qual è il costo fisso? 1000. E il resto si chiama costo? Variabile. Si determina la funzione di offerta dell'impresa. Allora qual è la funzione di offerta dell'impresa? P uguale MC. Prezzo uguale costo marginale. Quindi noi dobbiamo andare a vedere qual è la curva del costo marginale e bisogna fare attenzione. Ovvero dobbiamo prendere la porzione della curva del costo marginale tale per cui il prezzo è maggiore del costo medio variabile. Siamo nel breve periodo. Quindi per quale prezzo l'impresa non avrà convenienza a produrre? Allora qual era la figura di riferimento? Questa. Abbiamo che la curva di offerta è quella rossa a parte il fatto che questo tratto non dovrebbe esserci questo tratto qui fino a un certo livello di prezzo fino a un certo livello di prezzo P1 la quantità offerta è uguale a 0 oltre questo livello di prezzo la quantità offerta quando il prezzo è P1 più un centesimo la quantità di offerta è questa oppure possiamo immaginare che già P1 si offra Q1 Va bene? Allora noi cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare l'equazione di questa retta che sto disegnando e in più dobbiamo trovare qual è il valore di Q1 tale per cui il prezzo è maggiore del costo variabile medio quindi l'esercizio richiede semplicemente di calcolare quel Q1 e quella retta quella retta che non è detto che sia una retta quella retta lì si chiama costo mar e quindi per trovarla basta fare la derivata del costo totale il costo totale che funziona è? è una cubica e quindi la derivata sarà una quadratica quindi in questo caso il grafico non è proprio questo ok? e sarà una parabola e quant'è la derivata? Q alla seconda meno 4Q più 6 queste cose qui dovete viaggiare offerta è Q Q tale per cui il prezzo è uguale a costo marginale e il costo marginale è Q alla seconda meno 4Q più 6 che derivata è queste qui dovete sapere fare qua eh la devo fare Q terzi la derivata di Q terzi diviso 3 è 3 volte Q diviso 3 alla seconda ci siamo? va bene? e poi meno 2 per Q alla seconda è meno 4Q allora il costo marginale è questo e quindi prezzo uguale Q al quadrato meno 4Q più 6 questa è la curva di offerta però noi dobbiamo escludere un tratto cioè noi dobbiamo trovare per quale punto il costo marginale incontra il costo variabile quale? medio ovvero il prezzo deve essere più alto cioè deve essere tale per cui appunto deve essere maggiore rispetto al punto di minimo del costo variabile medio maggiore o maggiore uguale? è lo stesso non cambia niente dipende dalle assunzioni che facciamo possiamo ipotizzare indifferentemente che se l'impresa se è maggiore l'impresa assolutamente indifferente se produrre 0 o produrre quella quantità cioè se avessi accetto Q1 o no? se accetto Q1 no sì allora quindi noi cosa dobbiamo fare? ci sono tanti modi uno può fare l'intercezione e quello va bene oppure può direttamente calcolare il punto di minimo del costo variabile e che è appunto assolutamente identico allora quant'è il costo variabile medio? è uguale come facciamo a fare? dobbiamo prendere la parte del costo variabile ovvero dobbiamo prendere questa parte parte qui quello è il costo variabile vi torna? giusto no attenzione a quel punto lì questo è A AVC ovvero sto dividendo per per Q quindi io prendo questa parte gialla e la divido per Q quello è il costo variabile questo è AV eh scusi allora questo giallo come si chiama? VC costo variabile questo è il nostro costo variabile questo è costo variabile ok? e 1000 è il costo fisso il costo variabile medio da cosa è dato? è dato dal costo variabile diviso la quantità quindi se voi dividete Q alla terza diviso 3 diviso Q quanto fa? Q alla seconda diviso 3 se fate meno 2Q al quadrato diviso Q quanto fa? 2Q 6Q diviso Q fa? 6 questo è il costo variabile medio average variable cost dove c'è l'A è average quindi medio ok? allora prendiamo il costo variabile guardate la lavagna per favore allora ora un attimo qui è andato troppo avanti allora qual è il costo variabile? rifacciamo Q alla terza diviso 3 meno 2Q al quadrato più 6Q questo è il costo variabile per trovare il costo variabile medio dobbiamo dividere tutto per Q quindi noi dividiamo per Q dividiamo per Q dividiamo per Q questo e questo vanno via questo va via il quadrato questo e qui ci rimane il 2 ok? quindi è Q al quadrato diviso 3 meno 2Q più 6 ora ritorna allora questo è il costo variabile medio dobbiamo sapere il punto di minimo del costo variabile medio nel punto di minimo la derivata è uguale a 0 facciamo la derivata del costo variabile medio quant'è la derivata? 2 terzi Q meno 2 uguale 0 quindi 2 terzi Q la derivata del costo variabile è 2 terzi Q meno 2 e questo lo abbiamo quando diciamo è uguale a 0 quando Q è uguale a 3 quando la derivata è a 0 la derivata prima è uguale a 0 si può trovare un massimo o un minimo quindi noi dobbiamo sempre controllare la condizione del secondo ordine la condizione del secondo ordine è per un massimo la derivata seconda deve essere minore di 0 per un minimo la derivata seconda deve essere maggiore di 0 e allora se questo è AVC' quant'è la derivata di AVC' rispetto a Q? 2 2 terzi 2 terzi maggiore o minore di 0? maggiore di 0 quindi siamo in un minimo allora Q è uguale a 3 è il punto di minimo quindi la funzione di offerta dell'impresa qual è? allora sarebbe P uguale Q alla seconda meno 4Q più 6 ma Q deve essere maggiore di 3 maggiore o uguale a 3 allora noi cosa diciamo quando Q è uguale a 3 quando Q è uguale a 3 quant'è il costo variabile ovvero quant'è il prezzo perché prezzo e costo variabile sono uguali ok? quindi noi la possiamo sostituire o nella funzione di prezzo o nella funzione del costo variabile qui quando Q è uguale a 3 P è uguale a cosa? 9 vedete qui 9 meno 12 più 6 lo sto prendendo da qui ovvero Q al quadrato 3 per 3 è 9 meno 12 più 6 sto prendendo questo punto noi avremmo benissimo potuto vedere quanto vale il costo variabile e infatti noi cosa dobbiamo fare dobbiamo fare 3 quindi qua guardate la lavagna per favore 3 per 3 9 diviso 3 3 quindi verrebbe 3 meno 2 per 3 6 più 6 viene 3 e infatti in questo punto il costo marginale che sarebbe questa curva che in questo caso è fatta una curva è uguale al costo variabile medio ok quindi dato che noi vogliamo trovare questo livello di prezzo questo qua P questo è il prezzo minimo noi vogliamo trovare questo livello di prezzo questo livello di prezzo come facciamo a trovarlo dato che noi sappiamo questa Q noi o lo andiamo a leggere nella curva blu e la curva blu è il costo variabile e quindi andiamo a vedere quanto vale il costo variabile quando Q è uguale questo Q verde oppure lo andiamo a vedere nella curva rossa che è la curva del costo marginale che qui abbiamo originato come una rete in realtà è una curva ci siamo? quindi una volta che noi abbiamo visto per quel Q verde quanto è il P verde abbiamo trovato la curva di offerta dell'impresa ovvero che cos'è che se il prezzo è minore di 3 la quantità offerta è 0 per un prezzo maggiore di 3 la quantità offerta è P uguale cioè noi la troviamo risolvendo l'equazione ovvero P uguale Q al quadrato meno 4Q più 6 e chiaramente noi prendiamo questo può avere anche due valori e noi prendiamo il valore più grande perché ora vediamo un po' facciamo un disegno se questa curva di offerta abbiamo detto che è una parabola seguite un attimo qui se la curva di offerta è una parabola ok potrebbero esserci due punti di intersezione col prezzo uno basso e uno alto chiaramente questo è un punto di minimo e questo è un punto di massimo ma questo poi lo vediamo vedete questa è un'equazione quadratica immaginate che il prezzo uguale 10 questa che cosa viene? viene Q al quadrato meno 4Q più 6 meno 10 uguale a 0 e quindi vengono potenzialmente due valori di Q magari vengono due valori di Q uno negativo e uno positivo e noi graficamente sappiamo che il valore di Q è quello più grande poi vediamo meglio anche perché e quindi scegliamo sempre il valore più grande però quello che conta è diciamo il risultato finale ovvero che per il prezzo minore di 3 Q uguale a 0 per il prezzo maggiore di 3 Q la otteniamo risolvendo questa equazione più uguale Q al quadrato meno 4Q più 6 poi dice P uguale a 30 quant'è Q? è quella quantità che risolve 30 uguale Q al quadrato meno 4Q più 6 prendendo il valore di Q maggiore allora altro esercizio la domanda di un certo bene è rappresentata da Q 110 meno 10P allora la domanda di un certo bene è rappresentata da questa funzione 110 meno 10P il costo totale di lungo periodo ora facciamo un esercizio sul lungo periodo il costo totale di lungo periodo è il seguente 0,5Q alla terza meno Q al quadrato più 1,5Q il mercato opera in concorrenza perfetta si determina il numero delle imprese presenti nell'equilibrio di mercato nel lungo periodo allora che cosa vuol dire lungo periodo anzi che cosa accade nel lungo periodo che non ci sono extra profitti il prezzo è sempre uguale al costo marginale quello sempre anche nel breve ma nel lungo è sempre uguale al costo medio cioè non ci sono extra profitti chiaro? prezzo uguale costo medio quindi questo esercizio si risolve in maniera semplicissima pensando prezzo uguale costo marginale uguale costo medio questo allora quant'è il costo medio costo medio allora qui è sbagliato scritto con la y invece al posto della y la q d'accordo qui c'è q allora fate la derivata anzi fate il costo medio il costo medio è 0,5 q alla terza diviso q e quindi otteniamo un mezzo q alla seconda meno q al quadrato diviso q e otteniamo q poi un mezzo è uguale a tre mezzi 1,5 è tre mezzi d'accordo e quindi più tre mezzi q diviso q fa tre mezzi d'accordo ci siamo che 1,5 è uguale a tre mezzi questo è il costo medio a questo punto questo è il costo medio dobbiamo calcolare il punto di minimo del costo medio e quindi si fa la derivata del costo medio quant'è la derivata del costo medio q meno 1 ora qui c'è la y pazienza q meno 1 possiamo andare avanti solo con la y vi dispiace la y non è uguale alla q ok questa è la derivata di quello di sopra allora il prezzo è uguale al punto di minimo del costo medio abbiamo detto nel lungo periodo non ci sono estra profitti quindi scusate il prezzo è uguale come c'è scritto qui è uguale un attimo allora si aspetta vediamo allora noi dobbiamo trovare questo punto ok cioè il punto di minimo del costo medio totale perché l'impresa nel lungo periodo produrrà questa quantità la singola impresa ok quindi di fatto noi dobbiamo semplicemente trovare qual è il punto di minimo del costo medio totale allora per trovare il punto di minimo del costo medio totale facciamo la derivata la derivata è y meno 1 e questa derivata noi quindi il prezzo deve essere uguale al minimo di quella roba lì allora no qui ancora non è arrivato probabilmente c'è un problema di animazione questa roba qui deve essere uguale a 0 quindi y deve essere uguale a 1 ora lo corrego sulla slide quindi la quantità ottimale prodotta dall'impresa è uguale a 1 quando la quantità ottimale prodotta dall'impresa è uguale a 1 quanto vale il costo medio guardate la lavagna un mezzo per 1 meno 1 più 3 mezzi esattamente quello che abbiamo scritto sotto quindi quando q è uguale a 1 casualmente il prezzo viene uguale p uguale 1 allora la nostra quanto vale la quantità domandata quando il prezzo è uguale a 1 noi andiamo a prenderla qua dentro quando il prezzo è uguale a 1 110 meno 10 qui noi mettiamo 1 quindi 110 meno 10p quando più è uguale a 1 la quantità è uguale a 100 viene domandata quando il prezzo è uguale a 1 i consumatori domandano 100 unità di questo bene se ciascuna impresa ne produce 1 quante saranno le imprese sul mercato 100 sul mercato entreranno le imprese fino a 100 entreranno 98 imprese le 98 imprese avranno degli extra profitti entra la 99esima ci saranno sempre degli extra profitti entra la centesima impresa e il prezzo scende a livello del costo medio minimo quindi vengono azzerati gli extra profitti nessuna impresa entra più sul mercato se non cambiano i costi totali però a noi questo è il processo diciamo che ci porta all'equilibrio di lungo periodo quel discorso dei costi totali l'abbiamo del cambiamento se cambia ulteriormente la domanda invece qui la domanda è 110 più 10 q ok se invece per esempio cosa succede ci possiamo chiedere che cosa succede se la domanda da 110 va a 200 meno 10p ovvero se la domanda trasla allora in questo caso dobbiamo immaginare che i costi dobbiamo fare delle ipotesi sui costi se i costi rimangono gli stessi o se invece cambiano perché magari si usa manodopera specializzata o una materia prima estremamente rara quindi chiaramente come abbiamo detto il numero delle imprese sarà dato dalla quantità totale sul mercato 100 diviso la quantità che minimizza l'argomento che minimizza il costo medio e quindi noi abbiamo trovato 100 è chiaro quindi per ricapitolare nel lungo periodo sappiamo che non ci sono estra profitti quindi cosa vuol dire sappiamo che il prezzo è uguale al costo medio e sappiamo che ciascuna impresa produrrà in modo tale che il prezzo sia uguale al costo marginale uguale al costo medio quindi per trovare la quantità prodotta dalla singola impresa basta trovare il punto di minimo del costo medio ok e quindi troviamo contemporaneamente il prezzo e la quantità offerta dalla singola impresa e quindi noi troviamo sì esattamente questo punto troviamo questo punto quando noi troviamo questo punto troviamo questa q che è la quantità offerta nel lungo periodo dalla singola impresa e troviamo anche questo che è il prezzo corrispondente è il prezzo di lungo periodo ovvero il prezzo di un settore nel quale non ci sono extra profitti bene quindi l'esercizio banalmente chiede soltanto di calcolare qual è il prezzo per il quale non ci sono extra profitti e la quantità per la quale non ci sono extra profitti a questo punto noi cosa abbiamo abbiamo il prezzo e la quantità di una singola impresa quindi abbiamo il prezzo che lo possiamo usare nella curva di domanda per sapere quanta quantità viene domandata e poi abbiamo anche l'offerta e l'offerta q sarà uguale a che cosa n volte che è il numero delle imprese per q stella lp ritorna quindi noi per trovare l'equilibrio di mercato cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere a sistema la domanda e l'offerta quando è che la domanda e l'offerta sono uguali quindi dobbiamo mettere questa è la quantità offerta quest'altra in giallo è la quantità domandata però noi il prezzo ce l'abbiamo perché in questo caso il prezzo è uguale a 1 quindi sappiamo che la quantità domandata dato che il prezzo è 1 la quantità domandata è 100 e quindi facilmente questa q questa è uguale a 1 e quindi troviamo ovviamente n uguale 100 ok lungo periodo che in inglese è lo stesso anzi il signor Mamenti dice long run LR è chiaro? la prima cosa è banale no? qual è il prezzo in corrispondenza del quale il costo medio è minimo ad esempio 20 ok quando il prezzo è 20 quanto produce l'impresa? 6 ok il prezzo è 20 la singola impresa produce 6 se il prezzo è 20 quanto domandano i consumatori? ad esempio 12.000 i consumatori a un prezzo 6 domandano 12.000 se ciascuna impresa produce 20 quante imprese ci saranno sul mercato 12.000 diviso 20 ok questa è una specie di condizione limite no? in cui quando si azzerano completamente i profitti quando entrano le imprese sul mercato fino al punto in cui si azzerano gli extra profitti accade questa situazione che ci sono sul mercato che ciascuna che ciascuna impresa produce 20 no come abbiamo detto 20 e ci sono e le imprese sul mercato sono 12.000 diviso 20 ovvero 600 ok se entra un'impresa in più tutte le imprese fanno delle hanno delle perte perché la curva di offerta si sposta aumenta l'offerta se aumenta l'offerta il prezzo si abbassa il prezzo si abbassa al di sotto del costo medio minimo questo è l'esercizio sul lungo periodo facciamo un terzo esercizio vi siano n imprese identiche che producono un bene omogeneo il costo medio e marginale siano restrittivamente a c uguale q al quadrato più 4q da meno 4q più 8 e il costo marginale sia uguale a 3q al quadrato meno 8q più 8 mi viene dato questa volta il prezzo di domanda il prezzo di domanda sia uguale a 124 meno q si calcoli il prezzo di equilibrio e concorrenza perfetta nel lungo periodo e il numero delle imprese n in concorrenza perfetta nel lungo periodo il prezzo è uguale al ritavo marginale questo sia nel breve che nel lungo ma la caratteristica del lungo periodo abbiamo detto che non ci sono extra profitti ovvero il prezzo è uguale al costo medio e quindi si può fare il sistema oppure si può calcolare la derivata del costo medio esattamente come abbiamo fatto ora qual è il minimo del costo medio vedete ce l'avete lassù dovete fare la derivata del costo medio guardate la lavagna quant'è la derivata del costo medio quant'è la derivata di q al quadrato meno 4q più 8 2q meno 4 questo deve essere uguale a 0 quindi q uguale q uguale 2 che cos'è q uguale 2 la quantità che viene prodotta da un'impresa la quantità ottimale ok quando q è uguale a 2 quanto vale il costo medio 2 per 2 4 meno 4 per 2 8 più 8 4 meno 8 più 8 fa 4 il costo medio vale 4 ma 4 lo vale anche il prezzo ed è uguale al costo marginale cosa abbiamo fatto abbiamo sostituito questo è uguale a prima quando q uguale a 2 quanto vale il costo medio allora prezzo uguale ricavo marginale significa che noi siamo in concorrenza perfetta perché in monopolio il prezzo è maggiore del ricavo marginale ok poi quest'altra relazione cosa ci dice MR uguale a MC che le imprese massimizzano i profitti ok nel punto di massimo profitto il ricavo marginale è uguale al costo marginale potrebbe essere anche nel punto di minimo è profitto però quello noi lo escludiamo quindi quando il profitto è massimo il ricavo marginale è uguale al costo marginale ok quindi guardate bene poi in più che cosa abbiamo abbiamo prezzo uguale costo medio e questo che cosa ci dice è la condizione del lungo periodo è chiaro nel lungo periodo il prezzo è uguale al costo medio perché non ci sono estra profitti perché entrano nuove imprese che fanno abbassare il prezzo fino al punto fino al minimo prezzo possibile quindi la freccia rossa ci segnala che siamo del lungo periodo la relazione enfatizzata col giallo ci dice che siamo in concorrenza perfetta e il trattino blu ci dice che l'impresa massimizza i profitti ok allora tornando al nostro esercizio la quantità ottimale è uguale a 2 e allora il prezzo è uguale al costo medio che è uguale a 4 e noi 4 lo otteniamo come prima sostituendo il nostro 2 nella funzione del costo medio oppure nella funzione del ricavo marginale scusate il costo marginale se il prezzo è uguale a 4 quanto viene domandato noi andiamo a sostituire prendiamo il prezzo di domanda il prezzo di domanda è questo più uguale a 124 meno q quando il prezzo è uguale a 4 4 uguale 124 meno q e quindi q uguale cosa abbiamo a 4 uguale 124 che è meno n per q perché q grande è la quantità aggregata è la somma della quantità offerta sul mercato n per q ma q quanto abbiamo detto che è 2 quindi abbiamo 124 uguale a 124 meno n per 2 e quindi evidentemente n uguale a 60 120 uguale 2n quindi n uguale a 60 provate a sostituire 60 lì dentro 124 meno 4 120 uguale n per 2 e quindi n uguale a 60 allora graficamente no io cosa devo andare a cercare devo andare a cercare il punto di minimo del costo medio e qui ottengo che è che la quantità è 2 e quando la quantità è 2 quanto vale il costo medio il costo medio vale 4 ok e qui ci passa anche la curva del costo marginale marginal cost quindi questo 4 è anche uguale al costo marginale ed è uguale al prezzo quindi il prezzo è uguale a 4 la quantità offerta da una impresa è 2 ok se il prezzo è uguale a 4 più uguale a 4 abbiamo 4 uguale a 124 meno Q quindi Q a quanto uguale 124 meno meno 4 e quindi 120 la quantità che viene domandata è 120 e la quantità offerta quanto è? è data da n volte per per Q perché ci sono n imprese uguali vi siano n imprese identiche quindi la quantità totale offerta sul mercato è data da n per la quantità quindi n per Q deve fare quanto deve fare n per Q? 120 dato che Q è uguale a 2 n sarà uguale a dato che Q è uguale a 2 n sarà uguale a 60 quindi il prezzo è uguale a 4 a un prezzo uguale a 4 la domanda è 120 lei quando il prezzo è uguale a 4 la quantità prodotta da ciascuna impresa è 2 e quindi sul mercato sono presenti 60 imprese nel lungo periodo che è uguale a 2 ma 2 3 2 3 4 4